Allora, guarda, io sono il Presidente dell'Ala Carlo Montanari e volevo ribadire a tutti coloro che sono ammalati da mianto, residenti di Senigallia, che hanno lavorato alla Sassi e che possono rivolgersi a me tutti i lunedì nel palazzo del volontariato e sono lì presente tutti i lunedì dalle 14 alle 16 per accogliere queste persone e poter dare la possibilità di svolgere la pratica per risarcimento danni che ho già operato e quindi a 80 persone già hanno beneficiato con un importo di 6 milioni e 820 mila euro. Quindi se volete venire, chi non mi conosce può senz'altro rendersi corso della fattibilità che si può avere.